Più lunghe, più corte, più sottili, più piene il bello e soggettivo L'unica cosa oggettiva è che stia cominciando a fare freddo e che scoprirsi non sia più la soluzione possibile per tutte o perlomeno non sempre Ecco quindi un nuovo video con 10 trucchetti outfit per gambe più belle quando fa freddo Ma prima, like di supporto e iscriviti al canale Se questo video supererà i 15.000 like, il prossimo sarà dedicato interamente ai collanti E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno Seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrelle Sigla! Scarpe e collante dello stesso colore Ammettiamolo, mettere i tacchi certe volte è un vero sbatti e pensare di poterli indossare tutti i giorni è pura utopia È possibile far sembrare otticamente più lunghe le proprie gambe? Ok, solo otticamente ma meglio di niente Indossando collant dello stesso colore delle scarpe E il discorso vale per tutte le scarpe basse Sì, con un paio di calzature con il tacco l'effetto si eleverà alla seconda Scarpe e pantaloni dello stesso colore Dallo stesso modo anche indossare scarpe e pantaloni dello stesso colore o di due colori molto simili Contribuirà a rendere le gambe più lungiline Per contro, qualora si desiderasse farle sembrare meno lunghe o meno magre Si può optare per l'esatto contrario Ossia indossare pantaloni e scarpe di due colori a contrasto Se l'orlo dei pantaloni è corto e sbuccano i calzini Seguite lo stesso criterio Medesimo colore se volete allungare o snellire Colore diverso se volete accorciare o riempire Minigonne Più è alto il rischio, più è alto il rendimento Partendo dal presupposto che le minigonne non dovrebbero mai essere più larghe che lunghe Come slanciano loro? Nessun altro mai Se si vogliono mettere in evidenza le curve sono perfette quelle aderenti Se si desidera sottigliare la figura sono ideali quelle svasate Se si punta a sembrare più alte sono da provare quelle a vita alta Le quali alzano anche il baricentro E se si necessita di volume sui fianchi sono da valutare quelle a balze In qualunque caso con una minigonna si ottiene sensualità e un gioco ottico di maggiore altezza Più sarà scoperta la gamba più sembrerà lunga È un rapporto matematico Collant color carne Arete velati o velatissimi C'è chi rabbrevidisce al solo pensiero e chi non può farne decisamente a meno Visto che uniformano la pelle I collant color carne sono uno stile di vita Un'unica attenzione Se si punta all'effetto visivo consiglio di avere la pelle liscia Perché altrimenti si vedrebbe molto Mi raccomando Lasciate un like se volete che il prossimo video sia dedicato ai collant Quali scegliere e quando indossarli Jeans de la ve Ognuna ha il suo crucio Se il tuo è quello di avere delle gambe Un lato B poco pronunciati Vorresti sembrare più formosa Devi provare i jeans con i lavaggi acidi Con che? Semplicemente con delle schiariture Nelle zone che vorresti riempire Ad esempio L'area centrale delle cosce Sia davanti sia dietro I glutei E volendo I polpacci Le sfumature Proprio perché più chiare rispetto a ciò che le circonda Avranno un effetto volumizzante istantaneo Per contro Se non si vuole appesantire la parte inferiore del corpo Sono da preferire dei jeans monocolore e uniformi Tasche posteriori Poco considerate Un po' perché non le vediamo a primo impatto Un po' perché ci sembrano tutte uguali A volte Eppure possono fare realmente la differenza sul lato B Ok che è B e non A Quindi non di primaria importanza Ma non disdegnerei tutto ciò che fa alzare Lui E la nostra autostima Per far sembrare più tonico il sedere Le tasche dovrebbero essere Di media grandezza Centrali Con leggera inclinatura verso l'interno E discreta slavatura Diversamente se l'obiettivo è far sembrare il lato B più pieno Consiglio tasche piccole Distanti Schiarite E con cuciture a contrasto Come dici? Vorresti sapere quali siano le tasche in grado di far sembrare il sedere più piccolo? L'esatto contrario Tasche vicine, tono su tono e verticali Occhio alle linee oblique Che su dei fianchi larghi con un sedere pieno Lo diventerebbero ancora di più Non so quante tra voi vorrebbero far sembrare le proprie gambe più corte Se così fosse Tasche basse Pantaloni a palazzo A vita medio alta, morbidi sull'addome e ampi dai fianchi in giù I pantaloni a palazzo sono adatti a tutte le fisicità e tutte le esigenze Slanciano la figura, nascondono la pancetta, esaltano il punto vita, ammorbidiscono sia le curve sia gli angoli, camuffano le ginocchia e le caviglie E permettono anche di indossare un bel tacco alto al di sotto senza che nessuno se ne accorga Pantaloni sette ottavi Perché a volte la matematica non ci dispiace Cosa sono i pantaloni sette ottavi? Semplicemente di pantaloni 3-4 cm sopra le caviglie Gli effetti che apportano alla silhouette sono tanti e tutti diversi Ecco già lo so, la matematica non ti sta piacendo più Non valorizzano tutte le figure allo stesso modo ma alcune ne troveranno particolare giovamento Le fortunate sono le più bassine in quanto faranno sembrare le loro gambe così lunghe Da non aver trovato pantaloni che le coprissero a sufficienza E coloro che hanno caviglie sottili le quali proprio perché in bella mostra risulteranno evidenziate come un punto di forza Cardigan lungo Vi sento da qua Ma cosa c'entra un cardigan lungo con le gambe? C'entra perché se è lungo si fermerà a metà coscia, ad altezza ginocchio o a metà polpaccio Creando un focal point nell'esatto punto in cui termina Da utilizzare a proprio vantaggio come in svegna luminosa Ehi, guarda che bellezza qui Oppure come coperta di Linus Ehi, non puoi guardare ciò che a me piace meno Inoltre il cardigan lungo camuffando l'ampiezza dei fianchi maschererà anche le cosce Sia perché è molto magre, sia perché è molto piena Consiglio un cardigan spesso grossolano nel primo caso Sottile, fluente nel secondo Stivali al ginocchio No, non ho detto sopra il ginocchio Ho detto ad altezza ginocchio Dall'ampiezza standard Quindi né aderenti come un gambaletto Né ampi come quelli da pesca Gli stivali al ginocchio stanno bene a tutte Perché se si visticcia con le proprie ginocchia In parte le nascondono Perché se non si va d'accordo con le proprie gambe non particolarmente dritte Le camuffano Perché se si detestano le proprie gambe magre Non le fanno sembrare ancora più secche Perché se si litiga con le proprie cosce formose Creano equilibrio Insomma, sono piuttosto certa di avervi convinte a provarne un paio Spero che questo video vi possa essere utile Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e inseretevi al mio canale Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit E tanti consigli di moda e beauty Ogni giorno seguitemi su Instagram E mi trovate come elef3 Grazie per aver guardato il video fino alla fine Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili Grazie per aver guardato il video